Ciao amici, oggi ho preparato una torta di mele squisita e sofficiosa, proprio come dico io. L'autunno è arrivato senza chiedere il permesso e quindi il must di quest'autunno sarà la mia torta di mele. Guardate com'è sofficiosa, proprio come dico io. Seguite la mia ricetta, se volete iscrivetevi al mio canale e seguitela anche su Instagram. Per preparare la mia torta di mele, per prima cosa in una sotola versate 3 uova. Mi raccomando, gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. Se le uova le conservate in frigo, le dovete togliere dal frigo le due ore prima di usarle. Quando poi azionate la frusta e quando il composto risulterà spumoso, aggiungete lo zucchero e continuate ad usare le fruste. Poi, il burro, aggiungete il burro fuso, mi raccomando, il burro deve essere freddo. Poi, setacciate la farina e il lievito insieme e aggiungere il tutto un po' alla volta e continuare a mescolare. Il burro lo potete fondere sia a bagnomaria che a microonde, come preferite. Poi, aggiungete l'olio un po' alla volta. Io qui il latte non l'ho usato, però a posto dell'olio potete usare benissimo il latte. Se non usate il latte e seguite la mia ricetta, se il composto risulterà non troppo cremoso, aggiungete un po' d'acqua. E voilà, la nostra bella crema è pronta. Adesso tagliamo le mele. Le mele useremo due mele grandi. Le sbucciamo. La prima mela la tagliamo a metà. La dobbiamo tagliare a dadini. Così la inseriamo nel nostro composto che abbiamo creato, che abbiamo appena preparato. Tagliata la mela a dadini, la versiamo nel nostro composto. E poi, con una lecca pentole o con un cucchiaio di legno, mescoliamo bene. Poi imburrate la teglia. Infarinatela. E versiamo il composto. E livelliamo bene la nostra torta di mele. Poi, una volta livellata, mettiamola da parte e iniziamo a tagliare la seconda mela. la sbucciamo. E poi dobbiamo creare delle fettine sottilissime, così da poter decorare la nostra buonissima torta di mele. Una volta tagliate a fette, le posizionate sulla superficie della torta. partendo dall'esterno fino ad arrivare al centro, creando un bel fiore. infornate a 180 gradi per 55 minuti. Se ti è piaciuto il video, clicca mi piace, iscriviti al mio canale e attiva la campanella per non perdere nessuna delle mie ricette. E soprattutto, segui anche su Instagram e su Facebook. Ciao!